amici di le fonti tv ben trovati e come avete visto dalla nostra sigla siamo completamente immersi nella nostra settimana tematica dedicata alle risorse umane la nostra le fonti hr tv week nella quale affrontiamo naturalmente il tema del lavoro a 360 gradi e l'argomento che affronteremo in questo appuntamento è veramente centrale ci proietta anche verso un nuovo modo di ragionare sul lavoro perché parleremo di benessere benessere dei lavoratori dei dipendenti che fa bene ai lavoratori e dipendenti ma fa bene anche alle imprese e vi spiegheremo perché e vi spiegheremo anche perché è importante parlarne oggi quello sicuramente anzi partiremo proprio da questo nuovo rapporto tra lavoratore e l'azienda come prospettiva futura la voglio mettere in questo modo e vi presento la mia ospite silvia torselli benvenuta in studio da noi responsabile servizi and solutions e people caring di jointly grazie due parole su jointly perché questo ci porta già a capire un po qual è il lavoro che fate nella direzione no che ho un po messo sul tavolo in apertura una società benefit e dal 2023 la prima big corp del settore che progetta eroga e misura gli impatti proprio delle iniziative per il benessere delle persone all'interno delle aziende come viene declinato questo lavoro in sostanza viene declinato in una serie di soluzioni che vengono offerte alle aziende per promuovere il benessere per incontrare i bisogni dei dipendenti e dare risposte molto concrete chiaramente preoccupandoci anche di che ricaduta queste risposte hanno poi nella nel contesto di riferimento che può essere il contesto sia del singolo dipendente che della sua famiglia della comunità e probabilmente anche verso il nostro futuro è vero che di benessere quando affrontiamo il tema del lavoro si parla sempre più spesso mi verrebbe da dire per fortuna che così perché insomma tutti noi trascorriamo del tempo al lavoro dobbiamo sentirci magari non proprio a casa ma dobbiamo sentirci a nostro agio e indubbiamente la pandemia torniamo un po indietro nel tempo però è il periodo che ha cambiato un po anche le carte in tavola ha innescato un cambiamento radicale proprio nel mondo del lavoro cioè i lavoratori per primi hanno iniziato a dare più importanza al proprio benessere personale ripeteremo questa parola più volte perché è inevitabile alla qualità della vita mettendo ovviamente al primo posto i desideri di autorealizzazione cioè io sono io voglio questo dalla mia vita e quindi cerco di averlo sul lavoro si parla tanto di grandi dimissioni un argomento molto importante in america ma che anche in italia sta sta prendendo sempre più spazio nel dibattito cioè si lascia un lavoro perché appunto non ci si sente a posto non ci si sente bene io le chiedo subito ti chiedo subito quali sono le sfide che accompagnano gli HR in questo cambiamento mi verrebbe da dire epocale sono tante sono tante le sfide sul tavolo degli HR riassumiamole un po così diciamo che abbiamo affrontato una transizione digitale e adesso affrontiamo una transizione HR il tema delle grandi dimissioni è un tema antecedente il covid diciamo che il covid l'ha accentuato ha a che fare con quella che è una trasformazione un po identitaria della persona del in cui noi siamo immersi è un tentativo anche di ricostruire un po le mappe ok quando c'è una trasformazione identitaria si ricostruiscono delle mappe si ricostruiscono dei punti di riferimento il punto di riferimento lavoro è fondamentale non solo come sostenibilità economica ma anche proprio come cittadinanza come identità ecco quindi che le persone come se ci dicessero che stanno riscoprendo il senso del loro vivere e di conseguenza vogliono un po riprenderne il controllo il lavoro gioca un ruolo fondamentale il lavoro è fatica anche è la volontà di realizzare qualcosa che va oltre noi qualcosa di più grande e allora le sfide HR per me oggi è passare forse da un concetto dove le risorse umane sono un bene un bene da preservare da far crescere proprio per garantire la produttività a un mercato del lavoro che sta cambiando dove le persone mettono a disposizione i propri talenti le proprie competenze e le aziende si trovano a competere per questi talenti il tema delle grandi missioni è un tema che emerge non è l'unico sinceramente però emerge perché molti di questi talenti sono proprio le persone più talentuose ecco che escono dall'azienda e quindi il costo è molto alto e in generale il costo è molto elevato dall'altro lato gli HR hanno tante tematiche hanno una tematica appunto di velocità di produttività di flessibilità sul loro tavolo ma la tematica principale quella che dicevi tu è quella dello stare bene stare bene in azienda significa essere capaci di mettere le migliori energie e riuscire a conciliare la propria vita in modo sereno possibilmente e garantire così quella continuità di cui le aziende hanno bisogno e rimanere sul mercato alle velocità che oggi ci costringono a seguire quando fa piacere stare al lavoro è vero lavoro e fatica ci mancherebbe poi si torna anche volentieri a casa però insomma un conto è lavorare in un certo modo magari con il sorriso e di conseguenza portare ancora più risultate alle aziende per quello che lo dicevo è un benessere che fa bene ai lavoratori ma che fa bene alle aziende partiamo proprio da qui è proprio uno spazio dove la persona si mette in gioco dove le aziende possono così beneficiare anche di una creatività una volontà di essere di dare proprio contributo certo Silvia ecco potremmo definire questo un contesto di grande transizione di passaggio perché dobbiamo ancora probabilmente tutti noi prendere le misure però il welfare aziendale o forse adesso lo possiamo definire corporate well being si chiama in questo modo assume sempre più rilievo e quindi per far sì che le persone si sentano maggiormente coinvolte in quello che fanno e anche sempre in maniera più distesa ecco utilizziamo anche quest'altro termine bisogna puntare sulle componenti di people caring tra le diverse misure che voi state adottando quali sono le più apprezzate? è un momento di transizione ma la vita della persona segue tantissime fasi per cui il concetto principale che vorrei portare è che all'interno delle organizzazioni c'è uno spazio per ciascuno in base alla fase della vita che sta affrontando e da qui ci colleghiamo a quelle che sono le soluzioni diciamo più a valore percepite come più a valore perché sono proprio quelle che incontrano il bisogno poi della persona nel momento in cui sta affrontando determinate tematiche ma è anche quello dove la persona sa che laddove un bisogno venga espresso verranno in qualche modo accolte quindi sono le soluzioni a supporto della genitorialità con anche una targetizzazione direi quindi i neogenitori hanno delle esigenze specifiche i genitori con i ragazzi in fascia scolare insomma in età scolare ne hanno delle altre e poi ci sono anche genitori dei più grandi che domandano la possibilità di avere un orientamento uno spazio molto aperto all'interno del quale poter beneficiare anche di contenuti a valore che orientino i propri ragazzi quindi tutto quello che ha a che fare con la genitorialità perché promuove anche una migliore integrazione vita lavoro tutto quello che ha a che fare anche con il futuro direi quindi dare una mano per scegliere il percorso di studi per scegliere il percorso dopo il diploma e poi quelle soluzioni diciamo anche molto caratterizzate dal contesto sociale in cui siamo immersi quindi il fatto di essere un caregiver cioè di essere una persona che si fa carico di un familiare anziano non autosufficiente in modo continuo, duraturo è qualcosa che è nei tavoli e sul tavolo di tantissimi dipendenti c'è bisogno di una risposta organizzata di tante informazioni e ci vuole tempo di conseguenza l'azienda in questo caso può abilitare la persona con un orientamento ascoltando le esigenze e orientando i servizi si prende consapevolezza anche di questo ruolo quindi l'azienda può fare tantissimo e ci sono anche quelle soluzioni proprio del benessere complice anche la pandemia lo stare bene ha tantissime sfaccettature stare bene a 360 gradi non vuol dire soltanto essere in forma vuol dire anche stare bene dal punto di vista mentale della postura abbiamo tanti anche stili di vita diversi abitudini anche diverse riuscire ad avere un equilibrio fra tutte queste a livello mentale è la prima cosa anzi quando non si sta bene a livello mentale mio modesto parere ma che penso possano dare tutti insomma non si sta bene neanche con il proprio corpo cioè voi lo insegnate ci si sente un po' a disagio infatti appunto e la parola disagio in questo nostro focus approfondimento la vogliamo proprio accantonare per capire come invece sentirci al contrario sempre a nostro agio ecco Silvia su questo se posso aggiungere il tema delle organizzazioni è anche un tema proprio di benessere organizzativo perché le persone che stanno bene chiaramente poi contribuiscono a far star bene tutta l'intera organizzazione quindi non è soltanto una tematica di disagio è anche quello che ha accentuato diciamo la pandemia è la possibilità di uno spazio di dialogo uno spazio aperto dove porre anche delle domande anche solo per focalizzarsi, riorientarsi in un momento di difficoltà o in una situazione di stress certamente ecco appunto quindi stiamo parlando di un nuovo concetto di lavoro e di organizzazione lavorativa che mettiamoli insieme sono state consentite dallo sviluppo tecnologico possiamo dire che siamo diventati tutti un po' più smart proprio per l'innovazione tecnologica e a questo punto però visto che parliamo di risorse umane la domanda su tutte come si concigliano la parte tecnologica e il fattore umano domanda interessante, sfidante anche da portare in poco tempo allora la tecnologia abilita la tecnologia ci sta sicuramente portando tantissimi strumenti la tecnologia ci mette nelle condizioni anche di codificare i processi di automatizzare di innovare da sola però la tecnologia non basta per rendere un lavoro smart c'è bisogno anche del fattore umano se noi guardiamo tutto questo cambiamento è chiaro che dalla tecnologia abbiamo tantissimi dati che possiamo finalmente analizzare però c'è poi un comportamento che è un comportamento umano l'insieme di queste due componenti ci dà il cambiamento il fattore umano poi si concretizza tantissimo nelle relazioni oggi una delle sfide HR è il fatto di avere più generazioni in azienda ne abbiamo anche fino a quattro far dialogare queste generazioni non può essere soltanto delegato a degli strumenti tecnologici tutt'altro passa sicuramente dalla relazione e dall'abilitare le persone la tecnologia da un lato quindi ci dà tantissimi spunti e ci ha un po' costretti a trovare nuove mappe nuove strade come trasformare queste mappe queste strade per far diventare le organizzazioni forse un pochino più resilienti più creative è attraverso l'umano l'umano che ha bisogno chiaramente di uno spazio noi nelle soluzioni lo proponiamo questo aspetto perché siamo un'azienda chiaramente digitale tecnologica che però poggia la sua missione sul rispondere a dei bisogni che sono concreti sono reali per le persone e quindi affianchiamo sempre anche in questo caso una persona, un orientatore, qualcuno a cui ci si può rivolgere sia proprio per avere un confronto sia anche per sopperire anche a tante situazioni di solitudine a volte che questa società ha portato con sé non dimentichiamo che insomma la rete di protezione della persona e della famiglia si è un po' ristretta e quindi la tematica dell'essere umano è una tematica molto sentita assolutamente sì e io vorrei parlare contesivi anche di sostenibilità anche qui credo che spesso possa essere un termine un po' abusato però noi vogliamo invece spiegare che cosa intendiamo ovviamente è uno dei cardini della nuova cultura lavorativa ripetiamo spesso anche un acronimo ISG ossia identifica gli impegni per la tutela dell'ambiente verso le persone e le comunità social e naturalmente per il rispetto delle politiche di etica e trasparenza se vogliamo parlare anche di governance insomma anche qui ISG lo sentiamo spesso ma io vorrei entrare un po' nel merito con te in Italia il tema ambientale è sempre predominante parliamo dell'ambiente però perché possiamo dire perché credo che lo possiamo dire che la S di social è altrettanto rilevante non dico più importante però che andrebbe insomma analizzata allo stesso modo quanto meno allora la sostenibilità è un obiettivo strategico a cui tendere oggi la sostenibilità cosa si intende? si intende un modello di business che garantisca la sostenibilità a lungo termine quindi che l'azienda rimangano e perduri nel tempo ma che è un modello di business attento alla componente ambientale al benessere sociale e anche a una governance che porti anche equità la componente sociale quella S lì indica la capacità di garantire il benessere sociale ad ogni individuo in modo equo ecco quindi che se le mettiamo insieme apparentemente diciamo noi siamo immersi in un mondo che è orientato appunto alla sostenibilità ambientale ma in realtà anche questo cambiamento i char ma tantissime situazioni stanno sempre di più evidenziando che la parte sociale è altrettanto importante anche le normative anche i cambiamenti diciamo di reporting che stanno arrivando lo sanciranno definitivamente noi come l'abbiamo interpretato? perché come dicevi anche tu prima siamo nati come start-up a vocazione sociale siamo società benefit quindi abbiamo anche un obbligo di rendicontare la nostra ricaduta il nostro impatto e abbiamo preso anche la decisione di diventare società B Corp certificata B Corp questo perché il welfare impatta non solo sugli ESG ma ad ampio spettro sulla vita delle persone sul loro proprio stare bene prendiamo tutto il mondo della salute del benessere prendiamo tutto il mondo anche del se vogliamo della conciliazione della parità di genere dell'empowerment femminile ma il welfare ha anche la funzione di sostenere aziende di fatto che investono a loro volta in risorse umane in infrastrutture in innovazione e ha anche il ruolo di attraverso appunto risorse economiche di contrastare quella che è una povertà della famiglia che avanza o anche quelle marginalità sociali nonché può contribuire e poi magari lo vediamo l'ho accennato prima con il mondo diciamo dell'orientamento dei ragazzi può contribuire anche a un'istruzione che sia più più ampia possibile più equa possibile quindi la componente social nel welfare diciamo che è proprio innata poi a seconda dell'iniziativa si ricollega o meno a un obiettivo ISC piuttosto che un altro certamente però sicuramente parliamo di orizzonti sempre più ampi questo è un po' il punto di partenza di tutti i punti che abbiamo toccato finora è un'altra parola che usiamo e che andiamo così ad analizzare o che sentiamo quotidianamente purpose cioè lo scopo beh ovviamente quando parliamo di lavoro abbiamo uno scopo abbiamo un obiettivo è un po' il cuore del business mi verrebbe da dire insomma sono i valori anche che l'azienda promuove che condivide con i clienti e con chi lavora con l'azienda no? che anche la caratterizzano perché ovviamente a seconda dello scopo un'azienda viene caratterizzata però non so se sei d'accordo con me rischi a volte di restare una parola un po' vuota un po' astratta no? che un po' di facciata come possiamo fare affinché non sia così e che diventi qualcosa di concreto insomma no? quindi che che possa diventare qualcosa che non rimanga solo aleatorio avete non so qualche ti chiedo se hai qualche caso da condividere con noi? sì anche se la ricetta definitiva non esiste no? cioè ognuno deve un po' cercarla è importante però sapere che le nuove generazioni che arrivano in azienda allo scopo fanno molta attenzione e in generale attorno alla missione allo scopo di un'azienda si genera quella che è l'appartenenza no? quindi la volontà di una persona non solo di entrare in quell'azienda ma anche di rimanerci e di contribuire quindi alla sostenibilità dell'azienda stessa io vi ho portato un po' il caso appunto di questo programma che è professione genitori che è di fatto un percorso che affianca i genitori nelle varie fasi della vita e nelle tematiche quotidiane è un percorso che si articola in quattro moduli uno dei moduli appunto è dedicato ai genitori diciamo fino ai 18 anni con le diverse fasce di età un altro percorso è dedicato alle competenze digitali che i genitori devono e possono acquisire e due moduli invece sono dedicati uno all'orientamento verso la scuola superiore e l'altro all'orientamento dopo la scuola superiore questo programma ha vinto la misurazione di questo programma lo scorso anno ha vinto il premio CESAR proprio per l'impatto che cos'è questo spunto che vi lascio è per non lasciare che uno scopo un purpose rimanga distante dalle persone è necessario dimostrarne la coerenza nel quotidiano per farlo lo possiamo misurare chiaramente non sarà una misurazione come quella che siamo abituati a fare diciamo in ambito finanziario una misurazione più intangibile più qualitativa ma è possibile noi rispetto a questo programma ormai sono anni che ne misuriamo l'impatto quindi ci impegniamo a cercare di capire qual è la ricaduta di questa iniziativa che viene sponsorizzata da più aziende contemporaneamente un'iniziativa interaziendale che ricaduta genera non solo sul benessere dell'individuo ma anche nel benessere della famiglia della comunità di riferimento e poi anche in termini di fiducia verso il futuro chiaramente alla base c'è una metodologia non ci si improvvisa ecco ci sono soprattutto in questo caso insomma vanno rispettati anche degli standard piuttosto che delle procedure noi ci siamo ispirati soprattutto negli ultimi due anni alla teoria del cambiamento però ti permette la misurazione di ciò che tu poni in essere quindi di un'iniziativa misurarla e rendi contarla ponendo su questo anche il miglioramento continuo ti consente di far capire che quello scopo non è qualcosa che rimane sulla carta ma è qualcosa da vivere certo beh guarda Laura Silvia scusami quello che stavo su cui stavo ragionando è questo io all'inizio in apertura di questo nostro focus ho detto parliamo di benessere del lavoratore del dipendente che poi diventa anche benessere dell'azienda ma invece parliamo di molto altro perché parliamo di benessere familiare di benessere della società della comunità quindi l'importanza di cui accennavo insomma in apertura di questo di questo nostro focus va ancora più avanti cioè parlare di benessere quando parliamo di lavoro non è solo il benessere mio come appunto lavoratrice e già di per sé sarebbe un successo no? e tutti i lavoratori si sentissero comunque come abbiamo detto a proprio agio al lavoro ma poi questo benessere io lo porto anche all'esterno quindi a casa mia alla comunità eccetera 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 quindi insomma abbiamo visto come ecco ti lancio l'ultima provocazione ma che può essere da chiusa come sia facile parlarne ma nello stesso tempo se si seguono anche dei modelli sia facile anche raggiungere questi questi obiettivi speriamo che quante più aziende riescano a metterle in pratica sì porsi degli obiettivi è aziendalmente diciamo definito non si può prescindere insomma assolutamente no sicuramente però ecco è un cambiamento che è accelerato mi sentirei di dire su dinamiche accelerato soprattutto sulle dinamiche organizzative e familiari il benessere dell'individuo diciamo fa parte di tutto questo perché è il nucleo iniziale da cui parte tutto da cui si dirà ma è un processo ancora in atto con tantissimi risvolti ma ecco porsi degli obiettivi sì e sapere che è un miglioramento continuo che è un percorso non è qualcosa che inizia oggi e finisce domani no è qualcosa che è proprio il cambiamento della modalità quasi di lavorare per stare sul mercato a questa velocità con delle persone contente produttive eccetera è necessario mettersi in gioco essere dinamici sfruttare anche le potenzialità della tecnologia e al tempo stesso però sapere che l'organizzazione avrà un po' una trasformazione per diventare più dinamica più flessibile più resiliente abbiamo tanti strumenti abbiamo tante possibilità e poi è l'uomo che le deve sfruttare no? è il fattore umano esatto così almeno vedi siamo tornati proprio al punto che interessa di più a tutti noi grazie a Silvia Torselli è stato molto interessante questo dialogo responsabile servizi and solutions e people caring di Jointly ed era importante inserirlo all'interno della nostra HR week perché insomma è un nuovo modo di lavorare e tutti dobbiamo andare in questa direzione quindi io per prima insomma sono molto felice di aver approfondito le tematiche con te ti ringrazio grazie a voi e grazie a tutti voi per averci seguiti rimanete naturalmente sulle fonti tv vi auguro un buon proseguimento grazie a tutti 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 grazie a tutti